L'elogio dell'imperfezione di Ritalevi Montalcini, la poesia, pellegrinaggio dalla raccolta Vita ad un uomo di Ungaretti, un brano da quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Pirandello, un testo argomentativo sull'Europa e le guerre, tratto da un testo di Giuseppe Galasso, che invita gli studenti a una riflessione sull'uso dell'atomica, un testo sul valore del patrimonio artistico e culturale, una traccia che esplora il tema del silenzio, le nuove forme di comunicazione online. Questi gli argomenti della prima prova d'italiano dell'esame di maturità per 526.317 studenti in Italia, al via la prima delle prove. In Campania, 96,4% il totale degli ammessi agli esami di maturità di quest'anno. 6 ore massimo per la stesura e consegna del testo. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse. Il Ministero ha messo a disposizione per tutti gli indirizzi di studio 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. 3 le tipologie, analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha così commentato. I ragazzi devono affrontare questa maturità con serenità. Lo stress è il nemico peggiore per una buona riuscita dell'esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni. Per quanto riguarda l'orale, sarà un colloquio in cui non ci sarà un'interrogazione di tipo nozionistico. I docenti faranno delle domande, ma quello che è importante è che i ragazzi sappiano fare dei collegamenti e soprattutto dimostrare di aver appreso il senso degli studi fatti, ciò che la scuola e il percorso scolastico hanno dato loro nelle varie discipline.